una giornata di squalifica soltanto per il capitano di Napoli Lorenzo Insigni e diecimila euro di multa al Napoli che prepara la sfida alla Lazio Rieccoci studio Fischio d'inizio Passaggio tiro Siamo pronti come sempre linee aperte microfoni accesi via eccoci tornati in diretta 35 minuti dopo le 19 dopo Manzieri che salutiamo Gianluca Manzieri e salutiamo anche Alfredo Maiorano che al di là del vetro a curare la parte tecnica di Martesport Live ben ritrovati amici all'ascolto da Massimo D'Alessandro e da Pasquale Tina che vado subito a salutare già collegato con il telefono ciao Pasquale ciao Massimo buonasera allora una parziale buona notizia quella che riguarda il capitano di Napoli Lorenzo Insigne un po' tutti aspettavamo due giornate di squalifica da parte del giudice sportivo e invece una gara soltanto dovrà saltare Insigne quella di domenica a Roma contro la Lazio sarà invece arruolabile per la sfida contro il Torino come dicevo in come ricordavo in presigla anche 10.000 euro di multa combinati al Napoli qual è il tuo commento Pasquale poi darò anche il mio guarda Massimo la prospettiva delle due giornate era pesante perché già non hai né Mertens né Simen per le ultime due gare del 2020 quindi recuperare Insigne per il Torino mi sembra una notizia positiva per il Napoli si è optato secondo me anche con un po' di buonsenso magari con una multa più alta però soltanto una giornata di squalifica non vuole beh si è adottato effettivamente il giudice sportivo ha dimostrato buonsenso quello che forse l'arbitro Massa non ha dimostrato nella circostanza ma devo dire la sua performance l'altra sera San Siro è stata da tutti giudicata negativamente e niente va bene così ce ne faremo una ragione fatto sta che il Napoli già senza Osimena senza Mertens a proposito tra un attimo ti chiederò come procede il recupero di questi due giocatori dovrà affrontare la Lazio che è squadra assai pericolosa che non vive un momento brillante ne parleremo tra pochissimo con un altro ospite però a proposito del lavoro di preparazione ti chiedo Pasquale com'è andata oggi a Castelvolturno e qual è il programma degli Azzurri guarda Massimo domani mattina c'è la rifinitura a Castelvolturno e Gattuso sceglierà la formazione in attacco come dicevi tu c'è un po' di emergenza un po' contato giocherà sicuramente Petagna al centro dell'attacco secondo me potrebbero giocare Politano a destra Lozano a sinistra come Angelischi sempre a supporto del 4-2-3-1 quindi Lozano cambierebbe fascia cambierebbe lato ma anche a sinistra insomma ha dimostrato di poter fare bene e Politano giocherebbe a destra l'altra alternativa eventualmente Elmas a sinistra come già fatto qualche volta quando non c'era un segne proprio e quindi a quel punto giocherebbe Lozano a destra con Politano in panchina come arma in corso d'opera io ti dico poi lo vedremo domani seguendo la rifinitura che credo che sia difficile in questo momento lasciare fuori Politano perché Politano secondo me con l'Inter ha fatto molto bene quindi sono d'accordo probabilmente meriterebbe insomma una chance dal primo minuto l'altro l'Inter in realtà hanno fatto bene tutti è veramente difficile trovare un giocatore del Napoli che l'altra anche Lozano ha fatto bene però dato che gioca insomma l'ho dato per scontato insomma anche Zilischi l'altro dubbio secondo me che ha Gattuso è al centrocampo cioè il partner di Mediana di Bacaioco se confermare Demme o magari ridare una chance a Fabiano dal primo minuto questo sia l'altro dubbio di Vino Gattuso alla vigilia di questa partita ti fermo perché sull'altra linea c'è collegato con noi lo ringrazio molto per questo un allenatore che è stato giocatore di una Lazio fortissima Roberto Rambaudi conosciutissimo anche qui a Napoli brillante opinionista sportivo a Canale 21 come stai Roberto? Bene un saluto a tutti ciao ciao mister sull'altra linea te lo faccio salutare il collega Pasquale Tina innanzitutto salve Rambaudi buonasera buonasera mister come ci arriva la Lazio poi ti chiederò chiaramente anche del Napoli che hai che genere di squadra hai ammirato l'altra sera a San Siro con perdere purtroppo la sfida contro l'Inter però mi interessa il tuo punto di vista sulla Lazio che evidentemente è una squadra che segui sempre con particolare attenzione beh sicuramente sì la Lazio arriva in un momento che è un punto interrogativo perché perché alterna dei tempi primo tempo secondo di grande discontinuità per esempio il Benevento ha fatto un primo tempo secondo me ottimo forse uno dei migliori non ha concretizzato e poi ha subito su dei calci piazzati il gol è un'altra situazione è un momento di di una cosa che si poteva prevedere che andava a pagare a lungo andare del campionato in questa anomalia di di questo momento che sta vivendo il mondo e e noi nel calcio e nella vita non ha una rosa di altissimo livello ha 11-12 giocatori 13 di alto livello che possono competere insieme al Napoli insieme alla Juve insieme al Milan e all'Inter per lo scudetto per stare tra le prime però la Lazio ha perso troppi punti contro le piccole però fino a quando non scende in campo non sai che squadra scende è buona o non buona dipende è molto sta pagando anche la Champions diciamolo no quest'anno ma non credi la Champions la stai pagando perché forse hai fatto lo sbaglio come società come squadra come natura di puntare tutto sulla Champions invece l'obiettivo della Lazio secondo me era quello di entrare nei primi 4 e la Champions doveva essere un percorso di crescita e nella Champions è andata bene in campionato va male ecco ricordiamo che Inzaghi non avrà disposizione perché indisponibili Lulic a Cerbi anche Fares e anche Lucas Leiva ecco proprio quest'ultimo quanto peserà la sua assenza dovesse essere confermata naturalmente domenica per quanto quanto conta lei conta Massimo conta conta molto perché l'assenza contemporanea di Acerbi e Leiva conta molto lì ci sono 4-5 giocatori che sono indispensabili Leiva è l'equilibratore è quello che non appare quando non deve apparire appare quando deve apparire quindi è il giocatore di esperienza che sa leggere le situazioni fa migliorare e fa rendere al meglio i compagni di reparto Milinkovic e Luis Alberto Acerbi è una garanzia sappiamo dietro anche se Hurt sta facendo molto bene secondo me quindi Hurt a Cerbi secondo me era la difesa titolare e Radu un pochino dietro in questo momento Pasquale Tina venendo la probabile forma ricapitolando tutto quello che ci hai raccontato prima e dando una probabile formazione del Napoli antilazio ti sbilanci in che modo secondo me gioca Ospina di nuovo Di Lorenzo Manolas Kulibali e Mario Rui Bagaio Kodemme o Fabian questo è il ballottaggio Politano a destra Zielischi Lozano e Petagno Politano e Lozano entrambi al primo minuto hai sentito la probabile formazione del Napoli mister Rambaudi e ti chiedo anzi faccio una domanda a Pasquale ma chance di vedere Goulam dal primo minuto io l'ho visto bene l'altra sera a Milano Pasquale non so tu quando è entrato secondo me no secondo me alla lunga quando gioca nel finale 20-25 minuti li legge bene una partita intera secondo me ancora qualche difficoltà partita parlo di una partita di alto livello di grande intensità anche dal punto di vista fisico secondo me no gioca ancora Mario Rui però magari Goulam può entrare considerando insomma cesione 5 tanti Goulam dall'inizio con Lazzari la vedo dura non ha secondo me il ritmo il cambio di marcia che ha Lazzari quindi forse è meglio dall'inizio Mario Rui e in considerazione anche delle caratteristiche della Lazio e delle assenze che ha la Lazio che affronta il Napoli domenica all'Olimpico partner di Bacayoko secondo Rambaudi meglio Fabian Ruiz domenica quindi non in assoluto oppure ancora Demme per me i giocatori bravi devono giocare a meno che non hanno delle problematiche e tra Demme e Fabian io scelgo sempre Fabian per la qualità per il palleggio per innescare i compagni in avanti scelgo lui con un compagno di reparto che Bacayoko secondo me per giocare a due la cosa che non mi piace è vedere Zelisky punta seconda punta perché è questo di stiamo parlando Zelisky deve secondo me il talento di quando hai la palla in possesso va a cercarsi la zona lui dove riceverla e quindi da trequartista da esterno perché la posizione che determina il ruolo non è che si dico fai il trequartista lui fa il trequartista no perché va a decidere in fase di non possesso io preferisco un Napoli sempre che difende a tre a metà campo quindi Zelisky rientra nella linea dei centrocampisti specialmente contro un centrocampo come quello della Lazio che fa degli inserimenti fa dell'allargare il gioco fa della fisicità la loro forza ed è uno dei centrocampi più forti grazie mister ciao Roberto ci sentiamo presto grazie per il tempo che ci hai dedicato stasera ringrazio anche Pasquale Tina chiaramente se non ha null'altro da aggiungere ciao Massimo un proseguimento grazie grazie a Pasquale Tina cattive notizie per i sostenitori del Milan perché è rimandato ancora il ritorno in campo di Ibraimovic oggi ha avuto un ulteriore infortunio quindi se ne parla nel 2021 per rivederlo in campo ora ci fermiamo un pizzico di pubblicità però vi ricordo è venerdì è venerdì sera dunque a Marte Sport Live tiro al bersaglio protagonista sarà a partire dalle 20 circa Salvatore Bagni e voi di conseguenza che potrete chiamare lo 081 636363 chiedendo di interagire con il guerriero azzurro tutto questo tra poco su Marte Marte Sport Live tiro al bersaglio Marte Sport Live tiro al bersaglio eccoci tornati in diretta 51 minuti dopo le 19 Massimo D'Alessandro in conduzione di Marte Sport Live tiro al bersaglio c'è Alfredo Maiorano in regia tra un po' Salvatore Bagni al telefono con noi per mezz'ora con le vostre telefonate che dovranno arrivare però non subito tra una decina di minuti allo 081 63637 giornata di super lavoro in Lega perché innanzitutto le decisioni del giudice sportivo in merito ai giocatori a cui sono stati combinati dei cartellini nel weekend sportivo e a proposito di Lorenzo Insigne nel dispositivo si legge squalifica per una giornata effettiva di gara ed ammenda di 10.000 euro per Insigne Lorenzo per avere al 26esimo del secondo tempo con gestualità plattiale rivolto al direttore di gara espressioni irrispettose dunque una sola giornata verrebbe da pensare che poi insomma tutta sta cosa pazzesca Insigne in campo non l'abbia fatta l'altra sera ammeazza però ognuno la pensa alla propria maniera me ne sono accorto diciamo dall'altra sera ad oggi sulla questione però tornando alla Lega e alle decisioni fissata ha fissato l'orario del mezzo di ottave di finale di Coppa Italia riguarda gli azzurri che affronteranno al Maradona di Fuorigrotta l'Empoli mercoledì 13 gennaio alle 17.45 diretta sul Rai 2 quindi 13 gennaio Napoli-Empoli con diretta sul Rai 2 ci sono i particolari anche per quel che riguarda la finale Supercoppa Italiana 2020 che si giocherà in realtà nel 2021 il prossimo 20 gennaio al Mappei Stadium di Sassuolo però vi darò i dettagli tra un po' perché a proposito e squalifica di una giornata di Lorenzo Insigne vorrei sentire il parere dell'avvocato Luciano Ruggero Malagnini che molto cortesemente in diretta con noi lo ringrazio per questo avvocato buonasera buonasera a te e a tutti i tuoi raggi asportatori avvocato Ruggero Malagnini super esperto di diritto sportivo le chiedo avvocato lei se l'aspettava la decisione del giudice sportivo che per tutti era due giornate perché era l'aggravante la fascia della capitano perché la frase ingiudiosa era molto grave l'avevano sentita tutti quanti una cosa pazzesca e invece è arrivata una giornata soltanto in realtà in realtà vengono a farla apposta questa decisione del giudice sportivo ha posticipato di qualche ora la motivazione della decisione assunta dalla corte sportiva di appello con riferimento alla squalifica di del calciatore della Juve di Morata di Morata di Morata gli hanno dato due giornate poi la corte l'ha ridotta uno con 8 mila euro di ammenda e quindi il giudice sportivo si è un po' come dire appiattito su questa decisione della corte per evitare che Napoli poi avesse fatto un reclamo e nel senso di reclamo avrebbe avuto poi la stessa voglio dire sorte dell'attaccato della Juve quindi gli hanno dato al 10 mila euro del MUT anche perché probabilmente nella fattispecie ad applicazione della regola cioè dell'articolo 36 laddove noi siamo nell'ipotesi delle condotte nei confronti degli ufficiali di gara il minimo editale è due giornate indipendentemente poi dalla posizione del calciatore del Napoli che aveva anche assuneva anche il ruolo di capitano evidentemente però il giudice sportivo come anche la Corte hanno la possibilità di valutare eventuali circostanze aggravanti o eventualmente attenuanti ai fini poi della della sanzione da adottare probabilmente nella fattispecie uno non ha ritenuto la frase di insigne come irriguardosa o meglio ingiuriosa ma sicuramente non particolarmente grave diciamo da ingiuriosa l'ha ritenuta irriguardosa 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 a una collocazione giuridica diversa rispetto a dei giudici e poi avrà tenuto presente credo che ingegna a fine gara come dice lo stesso canale gli abbia chiesto scuso oppure abbia chiarito con l'arbitro che sul dispositivo c'è scritto espressioni irrispettose quindi non ingiuriose è più portata per la esiguardosità che per la ingiuriosità quindi una frase possiamo dirlo lo dice il giudice sportivo nella sua sentite che non è stata una frase particolarmente grave e offensiva non la considererà è proprio per questo però rivedo anche la frase irrispettosa ha un minimo di tali due giornate quindi se il giudice per dare una sola giornata con la mente ha valutato delle circostanze attenuanti che rientrano nel potere decisionale del giudice ai sensi del 36 del codice di città sportiva cioè il giudice quando decide deve anche valutare eventuali circostanze attenuanti si vede che l'arbitro probabilmente io non conosco poi il contenuto chiaro chiaro chiarissimo chiarissimo ci mancherebbe chiarissimo chiarissimo mi interessa il suo punto di vista anche sulla faccenda che chiaramente ha maggiore rilevanza quella che si discute al collegio di garanzia dello sport del CON il prossimo 22 di dicembre il ricorso del Napoli sulla questione Juventus Napoli mai giocata a che punto siamo ci sono degli aggiornamenti il fatto che il Napoli non si ritroverà di fronte né la Juventus né la FIGC nel discutere con i giudici il ricorso oddio certamente la FIGC fa differenza secondo lei? no allora il problema è la FIGC potrebbe anche non costituirsi come a me pure a me è capitato delle volte per i miei ricorsi sempre avverso decisione delle corti o federale di appello o sportiva di appello come nel caso di specie la FIGC può anche non costituirsi ciò non vuol dire che la FIGC faccia conoscenza rispetto alla decisione che ha assunto la corte diciamo si è voluto un po' defilare la FIGC rimettendo tutta la valutazione del collegio di garanzia anche se questo poi è un vantaggio per il Napoli? certamente non è una la FIGC non ha assunto la posizione diciamo di non lo so come dire insomma si è voluto un po' fare da parte certamente per il Napoli questa è una notizia positiva assolutamente perché voglio dire a quel punto lì c'è solamente il ricorso del Napoli avverso la decisione della corte anche se ci sono anche se tecnicamente la FIGC ritiene che i motivi che l'hanno indotto meglio hanno indotto i suoi giudici a decidere in quella maniera siano già tutti nelle carte è un po' questo però non ha voluto rafforzare diciamo così eccoci qua non ha voluto dare maggiore forza alla decisione adottata dalla corte e qua sono due reinterpretazioni o perché ritiene la federazione così chiara la decisione che non c'è bisogno di un ulteriore intervento da parte della federazione stessa o perché non ha voluto impedire più di tanto nei confronti della società sportiva Napoli chiaro avvocato fa chiarezza su un punto due passaggi da tenere presente che la federazione potrebbe anche tecnicamente intervenire all'udienza di discussione solamente oralmente senza farla a memoria ma se non fa la memoria a mio parere o meglio a mia memoria la federazione se non si costituisce nei termini dei rifiuti dalla notifica dei ricorsi non si concessirà più però evidentemente si considererà ex articolo 61 la procura generale del Cone questo è per legge deve stare presente che dovrà comunque assumere una posizione di contrasto rispetto al ricorso del Napoli oppure di richiesti di accoglimento dei ricorsi che la procura generale del Cone potrebbe anche chiedere alla corte quindi al collegio di accogliere i ricorsi del Napoli o potrebbe chiedere di ricettare i ricorsi del Napoli con delle disquisizioni ma anche l'accoglimento parziale cioè che alla fine il Cone decida la partita non si gioca ma togliamo il meno uno è un'ipotesi a mio parere questo non è possibile non è possibile perché questa penalizzazione che ha avuto il Napoli chiarisca bene avvocato perché questa è la convinzione comune cioè molti sono convinti che il meno uno alla fine succederà che al Cone tolgono il meno uno e diciamo accontentano un po' chiarisca per favore perciò che mi hanno insegnato i miei maestri la giustizia non c'è mai certezza di niente quindi sia ben chiaro questo perché comunque la decisione affidata a dei giudici i quali possono poi eventualmente come dire motivare come vogliono un'eventuale loro iniziativa tecnicamente a mio modesto parere la penalizzazione in Napoli potrebbe questa decisione potrebbe essere o di accoglimento diretto e quindi accolgo e ti dico rifare la partita evidentemente ti accolgo ti dico anche la penalizzazione questo non c'è dubbio o potrebbe essere di accoglimento con l'invidio con il principio di diritto che la Corte che sarà chiamata a decidere in composizione diversa dovrà rispettare e in quel caso poi la Corte dovrà decidere se eventualmente fargli fare la partita o eventualmente togli la penalizzazione ma la penalizzazione se il gente ricorso in Napoli via gradata non può togliere la penalizzazione perché nella fattispecie questa questione non è subordinata alla decisione che c'è stata come quella della Reggiana la Reggiana che ha fatto reclamo in quanto non si è presentata a fare la partita Avvocato purtroppo la devo interrompere è sempre molto cortese quando questa decisione è una decisione che va applicata nella regola generale e non nella regola particolare del Covid quindi se è protocollo non c'è penalizzazione nella questione di Napoli non si è ritenuto di applicare Napoli non è andata ex articolo 55 invocando un legittimo impedimento e quindi in questo caso qua se non c'è l'impedimento c'è anche penalizzazione non c'è tempo da fare Avvocato mi dispiace molto quello che ha rappresentato però io lo sa mi fido sempre moltissimo di lei che in maniera sempre libera dice le cose come sono ricordo che l'Avvocato Ruggero Malagnini differentemente da qualcun altro disse che sia in primo grado che in secondo grado la storia non sarebbe cambiata e diciamo non dire le buone per concludere mi auguro che questa mancata costituzione della federazione possa giocare al Stavolo del Napoli speriamolo speriamolo è una mia idea ma poi dovremmo vedere Marte di cosa succede vediamo cosa succede intanto grazie auguri ci sentiamo presto grazie grazie all'Avvocato Luciano Ruggero Malagnini ora la pubblicità poi filo diretto con Salvatore Bagni su Marte Marte Sport Live tiro al bersaglio Marte Sport Live tiro al bersaglio allora eccoci tornati in diretta 12 minuti dopo le 20 Marte Sport Live della sera tiro al bersaglio con protagonista Salvatore Bagni tra un po' in diretta con noi le vostre telefonate allo 08163636363 vi dicevo prima del GR vi raccontavo della Supercoppa di cui vi dirò tra poco perché nel frattempo la Lega oggi ha anche deciso gli anticipi e i posticipi fino a Pasqua quindi dalla diciassettesima alla ventinovesima giornata allora scorriamo un po' questa lista di partite vediamo quali i turni riguardo il Napoli come anticipo o posticipo la diciottesima giornata si giocherà Napoli-Fiorentina di domenica 17 gennaio alle 12.30 quindi mattinè per il Napoli domenica 17 gennaio un match tra Napoli e Fiorentina al Maradona e poi prima giornata di ritorno domenica 31 gennaio Napoli-Parma si gioca appunto di domenica alle 18 nella giornata successiva la seconda di ritorno Genoa-Napoli sarà anticipata al sabato sera sabato alle 20.45 poi ancora Napoli-Juventus terza giornata di ritorno quella sicuramente si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona e si giocherà di sabato alle 18 quindi Napoli-Juventus sabato 13 febbraio alle 18 fermo restando che potrebbe questo orario chissà anche cambiare vediamo insomma al momento la Lazio la Lega lo ha fissato di sabato 13 febbraio alle 18 e poi ancora la domenica successiva quarta giornata di ritorno Atalanta-Napoli a Bergamo di domenica sempre alle 18 domenica 21 febbraio alle 18 ancora Napoli-Benevento derby campano la quinta giornata si giocherà di domenica alle 18 quindi il Napoli in questo periodo sempre di sempre alle ore 18 in campo anche Napoli-Benevento mentre alla sesta giornata mercoledì 3 marzo Sassuolo Napoli un orario da stabilire ma si giocherà sarà da stabilire ma o in anticipo o in posticipo come orario ancora leggo sempre al dispazio della Lega settima giornata di ritorno Napoli-Bologna domenica 7 marzo alle 20 e 45 e poi Milan-Napoli domenica 14 marzo si giocherà posticipo serale delle 20 e 45 infine Roma-Napoli della nona giornata di ritorno di domenica 21 marzo sempre posticipo di domenica alle 20 e 45 in diretta con noi c'è lui c'è il guerriero sigla sigla Bagni di entusiasmo il filo diretto con Salvatore Bagni caro Salvatore buonasera come stai? ciao sono scavolato ma se non avessi rispetto per i radioascoltatori direi qualche altra parola per la partita veramente perché così non si può così avere in questo caso giocare in una delle migliori partite ne sono convinta di quest'anno dominando l'avversario e non portare a casa niente il calcio è strano a certe volte ti fa arrabbiare diciamo così c'è stata la grandissima prestazione del Napoli e si è visto veramente ecco quello che forse in qualche partita era mancata quel carattere quella voglia di arrivare al risultato anche nelle difficoltà convinto di arrivare al risultato e mettendo sotto nettamente l'internet per tutta la partita praticamente Senti Salvatore vado subito al dunque oggi è arrivata la decisione del giudice sportivo non due ma una giornata soltanto a Lorenzo Insigni al capitano del Napoli salterà dunque soltanto si fa per dire la partita dedicatissima e domenica a Roma contro Lazio mancherà anche Mertez non c'è Osimène Insigni squalificato per espressioni irrispettose non ingiuriose nei confronti dell'arbitro secondo te la scelta di massa è stata tutto sommato giusta eccessiva poteva bastare il cartellino giallo doveva far finta di non sentire in campo chi è stato in campo ha detto bene Gattuso che ha vinto tutto ed è stato a livelli mondiali per quanto 500 partite anche io sono stato un po' in campo ne ho sentiti tutti i colori anche io ho fatto il robaccio che l'albitro mi ha e nel momento capivo magari era una partita che perdevamo che eravamo nervosi che eravamo sotto che non riuscivamo a chiudere si fa finta di niente ma anche le altre squadre ho sentito che fendevano in certi momenti bisognerebbe capire poi è ovvio se c'è reiterato il discorso allora non è che poi davanti a tutti devi prendere una decisione però lì però lì mi sembrava una protesta educata adesso io non l'ho sentito l'ha detto Gattuso ma noi in Emilia Romagna lo diciamo anche ai passanti quando siamo di qua è proprio il nostro termine perciò non è niente che la prendono male quindi si è permallosito troppo massa sta dicendo sì secondo me sì perché noi quando veramente Emilia Romagna dice lo mandano a quel paese come ha detto lui quello che ha detto Gattuso lo mandano così ma nessuno sa pelle se lo prende così perché hai detto una sciocchezza magari in quel momento era un rigore in mezzo a me c'era un rigore perché però Spina non poteva fare niente in segne pensava che non ci fosse e protestava ci sta finisce lì sei stato punito già con la munizione di Spina e il rigore magari al massimo un cartellino giallo ma sì mandiamogli un cartellino giallo però guarda io la penso esattamente e degli arbitri quest'anno a parte i rigori che non ce ne danno siamo quella squadra che manentiva più di tutti in area ci arriviamo con una facilità irrisoria anche in ultimo partito tantissime occasioni però episodio un mezzo e mezzo questo c'era non è che ci tiriamo indietro il rigore c'era è stata proprio questione di impatto che è arrivato prima d'Armiana e c'era il rigore però guarda sai cosa ha dato l'impressione che il Napoli questa partita possa vincere il campionato lo possa ancora vincere perché perché ha giocato alla pari anzi ha dominato l'Inter che secondo me rimane la squadra da battere allora Salvatore sono già tante telefonate di ascoltatori allo 08163636363 perché voglio interagire e voglio chiederti delle cose però mi fa solo piacere però siamo già in ritardi con la pubblicità dobbiamo fermarci allora sentiamo Francesco poi facciamo uno stop in go di pubblicità Francesco buonasera buonasera ciao ciao Francesco vai ti prego tempi distretti vai con la tua domanda per Salvatore che ti ascolta faccio il più veloce possibile io sono un grandissimo ammiratore di Salvatore grazie Francesco queste tre cose velocissimo allora da ragazzo abbonato quindi ventenne più o meno a Campalo guardavo due giocatori per fare l'occhio fisso sui due giocatori in campo dall'alto e uno era Diego ovviamente ma l'altro era Salvatore questo è il primo punto vado veloce la seconda cosa mi ricordo una partita Italia-Argentina in cui fecevo la caccia all'uomo a Salvatore e fu straordinario fu eccellente internazionale e poi la terza cosa mio padre tornò dopo un Napoli-Perugia era giovanissimo tornò a casa prima di aver andato la partita e vinto un giocatore con l'avante numero 6 bagni che si cade fortissimo e allora niente domande da parte di Francesco mi fa emozionare mi fa emozionare sai perché io me lo ricordo quella partita 0-1 autoreste di Moreno-Ferrari dopo pochi minuti 200 tiri del Napoli parate di malizia tutt'andare però scusarmi perché così abbiamo vinto noi lo scudetto per primi perché voi eravate sulla buona strada in quel momento Salvatore ci fermiamo pubblicità riprende il filo diretto con Salvatore Bagni dopo la pubblicità a tra poco Marte Sport Live Marte Sport Live Tiro al Bersaglio Marte Sport Live Tiro al Bersaglio Riprende il filo diretto con Salvatore Bagni collegato con il telefono Salvatore ci sei vero? Ci sono sempre per voi ci sarò sempre grande grande allora 08163636363 il numero che dovete chiamare subito non prendiamo prenotazioni quindi la linea mi dice Alfredo Maiorano in questo momento è libera anche perché rientriamo la pubblicità quindi potete tranquillamente chiamare e sarete passati in onda per rivolgere la vostra domanda a Salvatore Bagni Salvatore lo sai che la Supercoppa Italiana si gioca mercoledì 20 gennaio al Mappei Stadium esatto a casa tua oggi la Lega ha anche ufficializzato l'orario si giocherà alle 21 a Reggio Emilia e poi non mi sembra una scelta felicissima eh beh alle 21 alle 21 alle 21 però allora una delle poche date libere la Lega ha anche precisato la situazione dei cambi allora confermate le 5 sostituzioni anche in questa competizione sempre divise in tre finestre sarà possibile una quarta interruzione in caso di eventuali tempi supplementari ma solo nel caso in cui una squadra abbia effettuato nel corso dei tempi regolamentari meno di 5 sostituzioni cioè le sostituzioni rimarranno 5 però se uno non ha cambiato ancora 5 uomini può sfruttare una finestra anche nei supplementari e poi ogni società dovrà indicare la lista di gara che consegnerà all'arbitro un massimo di 23 giocatori che sarà anche un nuovo pallone e poi c'è la novità che è intestata come dire intitolata come sponsor c'è la playstation playstation 5 ci fosse stata la playstation quella che mi ho finito come sono lì a cliccare non l'ha mai trovata andiamo al telefono c'è l'amico Tommaso che ha chiamato lo 081 636363 per parlare con te ciao Tommaso buonasera ciao ciao Tommaso prego volevo complimentarmi sempre col grande guerriero grazie Tommaso sei troppo gentile Salvatore è stato il nostro più grande guerriero io ricordo una partita Salvatore aiutami sono un po' vecchiarello la Coppa Italia Lazio-Napoli sì che dove riuscissi a pareggiare e passare il turno addirittura vincere la Coppa Italia che fu una partita che fu addirittura mi pare che rimaneste in dieci fu facessi una partita è vero è vero è vero salvatore quella partita sicuramente sì sì però ce l'ho a dire che veramente ti ricordi la Coppa Italia ne ho fatta qualcuna buona anche in campionato sì assolutamente ma quello è stato una partita eroica guarda secondo me l'abbiamo fatto come squadra a Roma dove io sono stato criticato con la Roma sì quella in 9 contro 11 è quella quella sì 9 contro 11 perdevamo 1 a 0 gol di Francini ci siamo difesi non è facile caro Tommaso ti prego una domanda se ce l'hai perché sono altri amici che vogliono chiedere le cose con Salvatore nessuna domanda dovrei parlare una dica vabbè ma domande se vengo a Napoli ti diamo appuntamento ci troviamo io parlo tranquillamente io sono una bella farmacia ti aspetto per un bell'integratore vai no no ascolta ti voglio dare una brutta notizia 64 anni non ho mai preso una medicina di fatto quando vado per mia moglie dico se fosse per me per adesso non mi voglio portare male sareste falliti integratore integratore si dai no no anche quello ogni integratore la testa la mia la mia testa ciao Tommaso grazie grazie ciao sull'altra linea Fabrizio buonasera ciao buonasera a tutti grande grande onore poter parlare con il cuore del primo acudetto del Napoli non l'ho detto io Salvatore l'ha detto il nostro dio del calcio non l'ho detto io ci ricordiamo tutti la vostra festa nello spogliatoio il cuore di quel Napoli eri tu punto e basta eri tu ma ci mancherete ti voglio raccontare una cosa c'è un raccontare una dedica di Diego che ovviamente quando faccio le dediche per piacere a chi le faceva cioè in quel caso a me c'erano uno studio che dice grazie ti ringrazio per tutto quello che hai fatto tu sei il più grande come era falso cosa hai detto che bello è una cosa meravigliosa che ho sentito gli occhi certo te lo ha detto il più grande te lo ha detto il più grande bellissimo bellissimo era il cuore di tutti messi in quella squadra in modo diverso con le proprie caratteristiche ma tutti nel loro modo anche quelli che si davano poco mettevano il cuore se ne potevano mettere in campo lo mettevano nello spogliatoio e per noi era importante lo stesso Fabrizio anche una domanda sì rapidissima Salvatore questo Napoli come andamento mi ricorda il vostro secondo Napoli il Napoli del secondo anno tu e Di Diego non ti sembra un po' così non lascia presagire qualcosa di bello per il futuro questa squadra ciao Fabrizio vi abbraccio e vi ascolto per radio ciao un abbraccio eh sì beh non è che per il futuro è già pronta l'ha dimostrato l'ha dimostrato assolutamente poi uno va a vedere magari ha perso proprio con il suo suono con l'Inter con il Milan però che sono state le prestazioni soprattutto dai con il suo suono in verità di perdere con l'Inter assolutamente no ma questa è una squadra col Milan anche stato sfortunato no ma ma certo perché poi però nell'approccio era stato migliore del Napoli nell'approccio però questa è una squadra assolutamente pronta per grandi traguardi noi forse noi quell'anno perdemmo il campionato perché perdemmo le due che giocavamo un calcio un tipo di calcio che ci stava dando fastidio ma tutte le altre le portavamo a casa anche quell'anno lo stadio lì è sempre maledetto torniamo al telefono c'è Vincenzo che vuole vuole chiederti qualcosa ciao Vincenzo buonasera buonasera sono Vincenzo ci siamo sentiti la settimana ascolta da Reggio Emilia Vincenzo da Reggio Emilia vedere il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto cioè nel senso mezzo vuoto perché comunque mezzo pieno mezzo vuoto Vincenzo chiariamoci allora Vincenzo togli il vivo a voce altrimenti non riusciamo a interagire allora vai con la domanda per Salvatore Bagni perché non ti sentiamo molto bene dico che secondo me deve essere più concreto il Napoli e sfruttare meglio tutte le occasioni quindi deve essere più concreto è vero che abbiamo giocato molto bene però secondo me certi gol cioè è peccato mangiarsene e potevamo uscire quantomeno con un pareggio chiaro grazie Vincenzo un abbraccio ciao Vincenzo ciao le occasioni le abbiamo avute le abbiamo create delle palle gol clamorose sbagliate c'è stato Andano c'è stato Andano dall'altra parte ci sono fatti i piedi no ma questa squadra ci può dire solo bravi e grazie per quello che ci avete fatto vedere poi ovvio se tutto nasce da un rimpallo da un tiro rimpallato di sensi la palla rimane a metà a metà una riva prima dell'altro e ti decide la partita ma non cambia niente nel giudicare la prestazione della squadra che è stata spettacolare allora abbiamo un'altra telefonata oppure ci dobbiamo fermare per il disco allora facciamo così c'è un hey song Salvatore ti possiamo richiamare fra quattro minuti giusto per accontentare altri due ascoltatori sei troppo carino troppo carino allora la mettiamo in musica ma ci ascoltiamo un pezzo che tra l'altro è molto ma molto familiare ai tifosi ai tifosi di Napoli in particolare perché era quello che accompagnava la salita dagli spogliatoi verso il terreno di gioco degli azzurri allo stadio San Paolo attuale Maradona sto parlando di una e-song marziana dei Pet Shop Boys Go West Radio Marte e i suoi selector presentano e-song gold e-song le canzoni che raccontano la storia sport live tiro al bersaglio Marte sport live tiro al bersaglio e allora trentasette minuti dopo le venti Massimo D'Alessandro in studio per Marte sport live tiro al bersaglio ancora a Salvatore Bagni collegato con il telefono che vado a salutare ciao ci sei allora giusto un paio di ascoltatori ancora prima dei saluti il primo si chiama Angelo ciao buonasera ciao Angelo allora senti Salvatore io da te voglio la verità è una domanda forse un po' scopera non riesci nulla ascoltami per permettermi quando perché io sono meglio per tu l'aver sempre detto l'ha detto sempre la verità ora capirai capirai la mia premessa dalla domanda che ti faccio ok ovviamente poi un po' di umorismo di battuta ma non c'è molto da ridere ascoltami tu hai giocato con Maradona e solo un dio del calcio poteva vincere i poteri forti questo è un campionato che all'estero molti lo considerano ridicolo perché vittono gli arbitri e la giustizia sportiva sottomessa a certi poteri e guarda che questo è il giudizio che molti danno all'estero ora anche tu che ecco che sei legato a noi sentimentalmente ma sei comunque diciamo al di fuori rispetto a tanti tu ti stai rendendo conto di quello che sta succedendo con gli arbitri dopo Torino cioè a questo proposito ricorderei i sei arbitri designati per domenica Lazio-Napoli sarà diretta al signor Orsato e ci hai pensato tu ci hai pensato davvero gli assistenti saranno Tegoni e Ranghetti Chiffi quarto uomo al Var Mazzoleni a Var Vivenzi Orsato e Mazzoleni tutti e due Salvatore ma tu che ne pensi come si reagisce a tutto questo strapotere la società deve fare qualcosa ciao Angelo grazie ciao grazie ciao grazie ma non è sempre facile perché ovviamente ma non è chiesto niente da 30 anni a questa 40 anni a questa parte guarda che anche noi in Napoli io no perché era nettamente le liste sai che devi lottare con un piso guardi in tema nel piazza e nel inizio e nel numero di giorni e purtroppo è così perché è uno sport però ce ne stiamo con Salvatore purtroppo non ti sentiamo benissimo a scatti nell'ultimo minutino ecco no ecco sono sempre fermo dove ero prima succede succede intanto prendo tempo vado a salutare l'ultimo amico protagonista di questo filo diretto del venerdì sera su Marte con Salvatore Bagni è caduto l'amico l'abbiamo recuperato prontamente grazie Alfredo Maiorano che cura la regia sempre in maniera strepitosa sentiamo come si chiama pronto 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 come ti chiami pronto sì ciao buonasera ciao Massimo buonasera ciao come ti chiami Sabatino Sabatino vai con la tua domanda per Salvatore che ti ascolta sì no per chi ti ha una domanda una considerazione ehm eh Salvatore Bagni come mai non cioè mi fa il piacere se fai le parti dell'associazione di Napoli non lo so i cacciatori dei cacciatori di Napoli tipo Sabatino non lo so non lo so un Gianni di Marte voglio dire ogni società che è il nord Maldini eh Nerd hanno sei stato chiaro Salvatore perché non sei in società perché non lavori per il Napoli grazie Sabatino grazie grazie Sabatino ma è una bella domanda perché non parlo di me ma di quelli che sono vorrei parlare di Bruscolotti di quelli ma ci sono un caffare lì dentro di quello di quel Napoli i Bruscolotti che sono stati capitani l'emblema di quella squadra napoletani cioè Campani diciamo che è andato a cuore per quella squadra io non parlo per me perché io sono stato vicino prima che arrivasse Bigon eh diciamo avevo avuto un colloquio col presidente diciamo che mi aveva chiesto anche alcune cose però va bene il cuore lo sa io sono stato via da Napoli e sono venuto ho litigato con Ferlaino e sono tornato con Ferlaino quando poi la squadra stava retrocedendo poi perché le cose non mi andavano bene perché la società deve essere deve decidere però ognuno si deve prendere le proprie responsabilità eh io sono fatto così perché magari non sono molto aziendale mi dispiace ho detto una cosa giusta perché Milan Juve perché Nedved Inter Zanetti Baldini Milan ma tutti ma tutti Fiorentina Antonioni tutti perché non Bruscolotti a Napoli è incredibile è incredibile io non lo accetto questo mi dispiace però in me che io ho un lavoro enorme mi va bene anche a me piacerebbe ovviamente a Napoli però ho un lavoro enorme ma chi sta a Napoli come Beppe che ha amato quella squadra quella maglia ha dato tutto quello che aveva perché allora guarda i giocatori importanti che hanno significato tanto per la squadra e la nostra città per il Napoli per l'appunto ne ha scritto un collega che è in diretta con noi il libro si chiama Le leggende del Napoli una città un popolo una squadra chiaramente c'è anche Salvatore Bagni il collega e il comune amico Angelo Rossi che vado a salutare ciao Angelo ma non mi dire che c'è Salvatore Bagni Salvatore Bagni al telefono Angelo ciao un salutone soprattutto saluto non un bravo giornalista ma un amico Angelo è sempre stato un amico ecco vedi Angelo ciao Massimo ciao complimenti per questo libro so che sta andando molto bene le leggende del Napoli c'è Bagni c'è ovviamente Maradona Careca tutti quanti gli altri Giordano quanti sono in totale? no veramente non c'è un c'è un racconto quanti sono citati ecco non li hai contati no non c'era diciamo così tra virgolette l'ordine l'imposizione di mantenersi entro certi limiti era stato chiesto così inizialmente l'idea dalla casa editrice era stato quello di scrivere un libro sul Napoli però poi abbiamo convenuto che scrivere l'ennesimo libro sulla storia del Napoli insomma non avrebbe avuto senso perché niente o poco avrebbe potuto aggiungere a quello che sappiamo e soprattutto a quello che è stato scritto da tanti da tanti colleghi anche in passato per cui abbiamo individuato ho pensato di individuare una formula differente cioè individuare quei personaggi tra giocatori presidenti dirigenti insomma e allenatori che con le loro gesta le loro vittorie hanno reso grande il Napoli e per questo sono diventati leggende ma non solo per le vittorie perché alcuni di essi anzi gran parte di questi diciamo così hanno legato il loro nome la loro presenza la loro immagine alla così alla passione alla città di Napoli al al calore insomma non è un caso se molti di questi personaggi ai quali abbiamo dedicato dei capitoli e ovviamente tra questi c'è anche Salvatore Bagni sono se no non t'avrei più parlare poi sono diventati Napoli ma guarda il prossimo aggiornamento che farai del libro devi aggiungere anche dei filo diretto di Salvatore Bagni su Radio Marte perché fatico io personalmente fatico molto a far fare agli ascoltatori delle domande a Salvatore che chiamano tutti per dire ah Salvatore tu sei stato il mio amico ti amo ti adoro tutti tutti ma anche Angelo ha chiamato per dire questo vero Angelo guarda manco a farla apposta oggi sono stata a una registrazione con altri con due ex compagni di Salvatore con Gianni Francini e Alessandro Renica ai quali anche loro insomma mi avevano chiesto delle cose su questo libro eccetera e io gli ho detto quello che che sto dicendo in giro da due settimane che dico anche a te non è diciamo così non è stata una scelta una selezione non è un modo di scrivere bello o brutto che sia citato è semplicemente di riportare la storia di quei personaggi io non posso cambiare la storia e nessuno può dire che Salvatore Bagni Renica Francini Maradona non hanno fatto la storia del Napoli hanno fatto la storia del Napoli di conseguenza sono delle leggende è vero è vero io questa leggenda la devo salutare però perché no io pensavo di arrivare a mezzanotte salvatore grazie per la disponibilità grazie a voi sempre un piacere come dico sempre saluto Angelo e spero di vederla presto buona trasmissione grazie a voi ciao grazie grazie a Salvatore bagni e Angelo Rossi però chiedo di Lazio-Napoli prima di salutarlo un mezzo difficile senza Insigne che ha avuto una giornata soltanto di squalifica al giudice sportivo senza Osimène sta continuando in Belgio a curarsi senza Mertens anche lui in Belgio a riprendersi dalla distorsione alla caviglia quindi con una formazione comunque potrà vantare un Losano in forma smagliante probabilmente un politano che anche a Milano ha dimostrato di saperci fare di essere sul pezzo di essere in un buon momento e con Petagna punta centrale basterà contro la Lazio-Dinzaghi? diciamo sulla carta allora innanzitutto non dimentichiamoci che anche la Lazio potrebbe avere delle assenze importanti non dimentichiamoci che andrà in campo al posto di Insigne e di Mertens sono giocatori di un certo livello che quest'anno hanno fatto salire la qualità della squadra proprio perché hanno ampliato le potenzialità della rosa della panchina delle seconde linee chiamiamole come volete e poi insomma non dimentichiamoci che questa squadra in passato e anche nel recente passato ha offerto fior di prestazione pur essendo priva di giocatori abbastanza importanti abbastanza rappresentativi io credo che come è messo oggi il Napoli a livello di gioco e come è messa oggi la Lazio a livello di sì anche di gioco ma anche a livello di piccole scaramucce di piccole polemiche interne eccetera io non credo assolutamente che il Napoli parta battuto anche perché ragazzi partiamo da un presupposto il Napoli possiamo possiamo discutere all'infinito ha perso per colpa dell'abito ha perso per dei meriti suoi tutto quello che vuole però il Napoli ha dato il meglio di sé e ha rischiato di vincere con ampio margine a Milano contro l'Inter giocando in 10 contro 11 quindi insomma non vedo perché non posso giocartela la pari anche domani è paradossale è paradossale però oggettivamente sono arrivate le buonissime notizie dalla sfortunata serata di San Siro dell'altra sera intanto Angelo ci sentiamo presto poi ci vediamo spesso e volentieri ti ringrazio per questo intervento in bocca al lupo per il tuo libro le leggende del Napoli una città un popolo una squadra Angelo Rossi di Arcos l'editore un abbraccio Angelo un abbraccio grazie a voi ciao ciao sull'altra linea il collega del Roma Giovanni Scotto ciao Giovanni ciao Massimo buonasera a te buonasera a tutti voi si avvicina il mercato però lasciami innanzitutto dire lo sarai anche tu credo non ho certezze ma credo di sì ai fanta allenatori all'ascolto che la Juventus non ha convocato né Arthur né Di Bala per il match di Parma che Ibrahimo ha avuto un altro problema al polpaccio e quindi il suo rientro è stato un po' procrastinato se ne parla nel 2021 ma venendo alla serata milanese all'arbitraggio di massa insomma in sintesi oramai sembra già passato un secolo visto che si gioca praticamente ogni tre giorni e già siamo proiettati su Lazio-Napoli però mi interessa molto il tuo punto di vista Giovanni ma sì diciamo gli eventi che si susseguono al ritmo forse nato tra coppa e campionato lasciano poco tempo alle riflessioni del post e ci preparano a quelle di ciò che sarà però effettivamente la gara con l'Inter io mi auguro non lasci strascichi non credo perché Napoli ha avuto veramente un atteggiamento positivo una partita brutta nel primo tempo però Napoli aveva secondo me diritto tra virgolette a fare una gara del genere perché Gattuso l'aveva impostata proprio in quella maniera non facendo giocare l'Inter tra virgolette perché non è che abbia un gran gioco però quando vanno a cercare Lukaku Lautaro l'Inter è sempre pericolosa Napoli ha interrotto un po' tutte le risorse ai due attaccanti facendo secondo me un gran lavoro difensivo e di contenimento nella ripresa l'atteggiamento è cambiato tutto stava filando liscio poi l'episodio del rigore Massa ci ha messo del suo una pignoleria che oggi in un certo senso anche il prima lo discutevi con l'avvocato dice sportiva ha parlato di una espressione irrispettosa gli arbitri che poverini ne subiscono tantissime di espressioni irrispettose non tirano sempre fuori il cartellino rosso però la gara è andata così vogliamo essere onesti fino in fondo anche Ospina l'ingenuità la commessa Insegni chiaramente poteva la prossima volta magari eviterà almeno quel braccio ma soprattutto che Insegni abbia sbagliato è fuori da ogni disoluzione soprattutto senza il pubblico è chiaro dici mezza parola la sentono tutti e quindi l'arbitro è facile che si possa impermalosire però è anche vero che era un momento particolare di una gara importantissima e lo stesso giudice sportivo ripeto c'è qui il dispositivo del giudice sportivo che ha combinato una sola giornata di disqualifica per Insegne riporta con gestualità plateale con gestualità plateale rivolta al direttore di gara espressioni irrispettose e quindi non poi così grave gravi Lazio-Napoli innanzitutto Giovanni scusa mi interessa di sapere da te il Napoli come alla fine ne esce secondo alcuni addirittura rafforzato più convinto ancora di poter dire la sua sul discorso Scudetto quest'anno dalla notta taccia di San Siro ma concordo se l'Inter vista mercoledì è una candidata direi istituzionalizzata per lo Scudetto non vedo perché non debba essere il Napoli per quello che si è visto sul campo Napoli nel finale di gara ha fatto un assedio in 10 contro 11 ha preso un palo io aggiungiamo anche Betagna perché per me quello è un errore e non è fortuna anche secondo me e insomma il Napoli fa il paio con quell'errore in Napoli-Milan nei minuti finali di match ma sì una cosa è quando prendi un palo da fuori aria e allora oggettivamente non si può parlare di errore una cosa è quando lo prendi quasi nell'area piccola a pochi metri l'esterno è da due metri esatto può capitare per carità però il Napoli comunque ha creato ha avuto le occasioni a Danovic è stato fantastico e questo la dice lunga il Napoli si consola con un Lozano ancora una volta migliore in campo e non di poco anche rispetto a chi ha deciso la partita ma Lozano giocherà a destra o a sinistra secondo te all'Olimpico? a sinistra a sinistra nel suo ruolo nel ruolo dove chi conosce bene Lozano dice che lui ha più facilità a far golla la cosa penso che non ci dispiace a noi e neanche a Gattuso perché il Napoli senza Mertens senza Osimene senza Insigne ha bisogno di golla e quindi Lozano da quella parte se è vero ciò che dicono dovrebbe sicuramente incidere di più in zona golla Politano naturalmente credo sia pronto per giocare a destra entrando anche lui molto bene mercoledì e penso che Petagna meriti comunque al di là delle critiche che gli abbiamo appena fatto meriti la sua chance perché per carità mancando due centravanti è chiaro mi sembra avendo in Napoli però due centravanti ulteriori esatto un reparto offensivo che veramente ha un'abbondanza direi fuori dal comune Napoli può permettersi lusso con tre infortunati o due squalificati due infortunati non squalificati a tenere fuori Willick e le Fiorente che non sono gli ultimi arrivati è significativo però occhio anche a Elmas perché Elmas è un calciatore che può agire da quelle parti sia a destra che a sinistra non credo che Gattuso adotterà questa opzione perché la Lazio va abbattuta il Napoli comunque reduce da un pareggio però mi interrei come cambio un Elmas messo da quelle parti lì in avanti l'importante è che ci sia Zerischi a ispirare dietro le punte e soprattutto Lozano che devo dire la verità a partire dalla gara con la Samba ma anche visto mercoledì sera contro l'Inter davvero un calciatore che può fare la differenza a me mi sta ricordando sempre di più il buon vecchio carissimo Pocio Lavezzi sono caratteristiche un po' diverse tra i due però quegli strappi quella grinta quella capacità di stare in piedi di prendere una quantità di botte incredibile senza fare una piega senza protestare senza mettere le mani addosso agli avversari mi ricorda quello spirito che ci ha fatto così divertire con Lavezzi quelle fiammate effettivamente ricorda è meglio però che noi invece ci dimentichiamo del Lozano l'anno scorso che era proprio un'altra cosa un'altra roba Giovanni ti leggiamo domani su Roma grazie per il tempo dedicato a Marte Sport Live questa sera ciao grazie a te grazie a voi grazie davvero al collega Giovanni Scotto e prima di chiudere estrappiamo un paio di minuti al collega di cittaceleste.it ma anche di radio incontro Olimpia Stefano Benedetti ciao Stefano ciao buonasera a tutti ho cambiato radio ah hai cambiato radio però non hai aggiornato il profilo tweet sì sì come si chiama la radio? dove hai letto scusami? eh su Twitter per essere preciso hai perfettamente allora si chiama Radio 6 che è la radio più ascoltata Radio 6 riferimento dei tifosi della Lazio Stefano Benedetti adesso ci darà la probabile formazione della Lazio anti Napoli quanti dubbi ha in Zagli? eh ce ne sono ce ne sono molti ce ne sono molti qualcuno di di natura proprio tecnica tipo Reina no? credo che per Reina che voi conoscete molto bene grande calciatore però insomma il dubbio è dare spazio a un giocatore bravissimo di grandissima esperienza ma che ha 38 anni eh al discapito di un calciatore come come Stracoscia eh che ne ha praticamente 12 di meno e che rappresenta un patrimonio della società quindi insomma io credo perché negli ultimi giorni eh Stracoscia non è stato impegnato un po' prima perché era infortunato poi il covid eccetera eccetera ma credo che forse il giorno del ritorno di Stracoscia in campo sia proprio domenica sera alle 20.45 allo stadio olimpico che è il dubbio per eh ti chiedo di Acerbi e Lucas Leiva che perfetto allora entrambi hanno ricominciato a correre oggi Acerbi aveva avuto un risentimento muscolare lasciare il campo anzitempo ma non è una coltratura né uno stiramento e quindi tra i due probabilmente se dovesse riuscirci è il deputato è lui ad essere deputato a rientrare in campo più di quanto non lo sia il brasiliano quindi eh dovrebbe la formazione in difesa dovrebbe essere composta da Luis Felipe e Hutt e Acerbi perché Radus che sta giocando ogni tre giorni purtroppo anche lui ha una carta d'identità che proprio non lo accompagna moltissimo da questo punto di vista è un grandissimo temperamento però bandiera assolita e invece per quanto riguarda il centrocampo Lazzeri è confermato a destra Martic è confermato a sinistra centrodestra Milinkovic centrosinistra è Luis Alberto mentre al centro del centrocampo io non credo che lei non ce la farà quindi probabilmente vedremo Escalante con Caicedo attenzione Caicedo e Immobile nelle parti offensivo questa dovrebbe essere la formazione della Lazio bene così speriamo sia una bella partita domenica l'Olimpico tra Lazio e Napoli purtroppo senza tifosi ma va così ancora per non molto speriamo Stefano grazie grazie a voi buona serata grazie grazie al collega Stefano Benedetti a voi tutti per l'attenzione saluto e ringrazio Alfino Maiorano ha curato la parte tecnica di Marte Sport Live tiro al bersaglio da Massimo D'Alessandro è davvero tutto vi ricordo domani è sabato quindi torna Peppe Iannicelli con dalle dodici in poi Radio Marte Sport Show è tutto ciao Marte Sport Live tiro al bersaglio